E approfittiamo della presenza di questi bellissimi esemplari di Deutsch Yag Terrier che provengono dall'allevamento del Bosco Magico di Albinea per parlare del carattere di cani di questa razza e lo facciamo con l'allevatore di questo allevamento ovvero Franco Nironi per scoprire quelle che sono le caratteristiche dello Yag Terrier e per cercare anche di dare qualche indicazione per coloro che pensano di adottare un cane di questo tipo abbiamo già detto che non è un cane per tutti ma questo non vuol dire che non possa essere un perfetto amico a quattro zampe vero Franco? Il cane non è per tutti perché come tutti i terrier ha un carattere tutto suo un carattere venatorio che è difficile da dominare e per il resto noi stiamo appunto utilizzando queste correnti di sangue perché non sono aggressive come quelle diciamo che vengono dei pesi dell'est perché questi sono correnti di sangue francesi e tedesche cani molto più tranquilli cani molto più addestrabili come vedete sono femmine che stanno insieme i maschi che giocano insieme senza problemi certamente vogliono addestrati appunto fin da cuccioli per poter stabilire con questi cani un certo rapporto comunque lei è Cristina qua che si occupa appunto dell'addestramento dell'educazione di base di tutti i cani anche non solo terrier ma anche di altri cani e lei è proprio quella più adatta anche a spiegare come fare appunto a gestire un terrier del genere ecco. Io inizio proprio sempre da quando sono piccoli da due mesi inizio innanzitutto a lavorare sul richiamo che questa è la cosa fondamentale perché tutti i proprietari dei cani cioè la prima cosa di cui si preoccupano è il richiamo del cane che appunto essendo un terrier quindi di una tempra fortissima è una vivacità strepitosa quindi se non lo riesciamo a contenere diventa una bomba a mano e quindi niente all'inizio proprio si lavora sul gioco e richiamare il cane premiarlo farlo giocare queste sono le prime basi perché se si lavora il cane praticamente premiando sempre le cose positive che lui fa si ottengono dei risultati veramente eccezionali perché di solito quando si prende il cucciolo che succede? Oddio lo sgridi perché lì fa la pipì e quindi lì lo sgridi o il quinsaglio non va allora lo tiri e lo sgridi e si va da qualche parte non vuoi lo sgridi gioco con degli altri cani e quindi è un lavoro praticamente sempre negativo che lui fa invece bisogna cercare di resistere a questa tentazione di sottomettere il cane e invece di lavorare su ogni cosa che lui fa positiva e premiarlo perché delle volte si sta per dire non so il cucciolo è in casa di solito si dà dei premi così proprio perché ci gratifica noi stessi invece noi dobbiamo premiare i comportamenti che loro fanno e praticamente focalizzare questo comportamento se è un comportamento positivo Uno Yag Terrier se correttamente allevato a livello di carattere quale soddisfazioni può dare? Per me è un cane eccezionale perché comunque essendo un cane molto attivo innanzitutto riesce a addestrarlo su molte attività e quindi c'è tipo non lo so ecco se c'è una famiglia che ha anche dei ragazzi che si possono divertire magari facendo agility che è questo sport dove si corre con il cane si fanno dei salti e tant'è vero che anche uno Yag Terrier è stato anche campione del mondo quindi voglio dire quando si parla di addestrabilità quando uno pensa che questo cane non è addestrabile non è assolutamente vero perché lavorando sulla psicologia del cane e quindi sul comportamento si riescono a ottenere dei risultati eccezionali È un cane sportivo assolutamente sportivo perciò va bene tutti quelli che vogliono fare dello sport con il cane anche anche camminato in montagna anche insomma Ti è mai capitato nel tuo allevamento di ricevere delle visite di persone che volevano adottare uno Yag e dire no io a voi il cane non lo do? Sì certo, certamente cioè spesso capita insomma vedi ci vuole una persona che ha anche un certo carattere per avere un cane docile e un cane positivo deve avere un certo carattere anche la persona E tu li riconosci questi personaggi? Beh insomma nel tempo, in 30 anni riesco a riconoscere la persona quando non è adatta al terrier, terrier in generale Grazie a tutti! Grazie a tutti!